questo è linkedin formula bene benvenuti in questa nuova puntata di linkedin formula io sono valentina mandili linkedin trainer e social media manager e oggi vi parlerò di un progetto molto importante allora io ho creato un diciamo creato un pensiero diciamo così all'inizio del 2018 che poi si è trasformato in un libro e che poi la vita ha portato ad essere un contenitore di un'esperienza vissuta davvero cioè il libro si chiama linkedin per studenti primo e unico libro al mondo che parla di questo argomento sono rimasta scioccata anch'io perché comunque in america dove nasce linkedin c'è la possibilità addirittura per alcuni campus di avere delle opzioni in più rispetto a tutti gli altri studenti per esempio del mondo che utilizzano linkedin e quindi ho detto cavolo è possibile che non c'è un'attenzione particolare verso gli studenti anche lato formatori che tutti pensano a trovare clienti con linkedin sì ma linkedin serve anche ad altra formare quelli che sono gli imprenditori del futuro i dipendenti del futuro le persone comunque che lavoreranno nel mondo diciamo globalizzato del futuro del presente e quindi evidentemente sono arrivata prima io sono contenta di aver fatto questa scelta perché per me è anche un dono che do in qualche modo alla comunità e questo mi permette di fare che cosa di riuscire in qualche modo a risanare quel gap che c'è tra chi fondamentalmente non ha figli e non può in qualche modo dare alla comunità a livello giovanile quindi io non ho figli non posso crescere un figlio che poi avrà certi valori eccetera che cosa ho fatto non avendoli in qualche modo la mia vita mi ha portato a dare qualcosa alla comunità ai giovani facendo questo ho fatto un lascito perché il libro per me è un esempio dei valori in cui io credo in cui crede anche anche credono anche le persone che mi seguono che mi hanno aiutato anche a farlo dall'editore a chi ha fatto l'introduzione roberto castaldo poi parlerò di lui e sono dei valori che secondo me vanno ripristinate in una società dove faccio un esempio il giovane e l'anziano non sono in connessione non sono più in connessione questo è uno degli esempi relativi anche al fattore di come sta andando il mondo del lavoro l'anziano che ha potere d'acquisto che ha comunque le strutture per far crescere un business non dialoga con il giovane questo significa appunto che c'è un problema di passaggio di di consegne detto ciò cosa fare l'unica cosa che possiamo fare è andare in qualche modo a ripristinare questo gap che c'è fra le persone non solo fra appunto anziani e giovani ma soprattutto in quella classe media diciamo così che attualmente lavora che in qualche modo sembra focalizzata solo esclusivamente sul proprio lavoro quindi non vede i giovani non vede nulla molto spesso non si preoccupa della crescita né dei giovani della della propria azienda se magari responsabile né del futuro proprio dell'azienda e quindi di portare innovazione e quindi tecnologie e quindi giustamente anche giovani perché sono alla fine i giovani così sempre portano la tecnologia detto ciò di cosa parla il libro il libro ha un obiettivo molto lineare cioè consiste nel dare uno strumento manuale per ragazzi da 16 a 26 anni che permette di in qualche modo creare un profilo per studenti perché per chi non lo sapesse esistono proprio profili linkedin specifici per gli studenti quando uno a fare l'iscrizione dice che è studente quindi può andare in qualche modo a ottenere questo tipo di account particolare e questa è la prima diretta che faccio così lunga datemi un secondo perché voglio avvertire anche tutte le persone che ci stanno ascoltando voglio mettere un bel post su linkedin eccolo qua e quindi tra poco arriveranno anche altre persone ad ascoltarci bene dicevo è un manuale quindi guida passo passo per gli studenti prendono il manuale creano il proprio profilo ma soprattutto interiorizzano quei concetti fondamentali che lo portano la portano a vedere il proprio futuro come un percorso da pensare a ritroso per capire quali sono i passi per andare a trovare un lavoro che possa essere quello che gli fa stare bene ovvio che se attualmente già un quarantenne non sa se sta facendo il lavoro della sua vita come fa a saperlo un diciottenne un sedicenne molto spesso il quarantenne che non sa cosa sta facendo la propria vita è perché non ci ha pensato prima o comunque non ha seguito questo percorso cioè il vedersi al di là del tipo di lavoro ma il vedersi come persona realizzata con un'immagine con una visualizzazione e poi fare un percorso magari farà un percorso da medico ma non farà il medico della mutua magari andrà a fare il medico per la nazionale di basket facciamo un esempio quindi magari la strada è quella ma il lavoro finale non è proprio esattamente quello che che ha delineato nella sua mente all'inizio però intanto ha fatto il giusto percorso immaginiamo quanti ragazzi vanno a fare lavori diciamo non sono specializzati e sono laureati hanno fatto master questo succede proprio perché non c'è un orientamento perché ci si butta a fare l'università i ragazzi lo fanno per perdere tempo perché stanno sono comunque persone che vengono mantenute maggior parte dei casi fino a 25 26 anni se non di più non hanno mai lavorato non vogliono andare a lavorare vogliono studiare come escono l'università vogliono trovare un lavoro l'unico problema come dico ai miei studenti è che a 26 anni sono finite le politiche dell'assunzione agevolata e quindi escono all'università e nessuno li assume quindi vanno a finire come fattorini come qualsiasi altro tipo di lavoro non qualificato dove spesso e volentieri qui anche molti comici italiani hanno fatto satira non ti prendono perché sei laureato quindi vai in un limbo totale dove magari se vai all'estero ottieni qualcosa probabile perché lì comunque i titoli hanno un senso e comunque in generale c'è un mercato che lavora diversamente e appunto nel caso italiano abbiamo questo questo limbo di persone totalmente non orientate a quello che vogliono fare non si conoscono hanno vissuto fondamentalmente facendo una vacanza tutta la vita perché per 26 anni hai fatto una vacanza perché hai studiato perché studiare è una vacanza in confronto a quello che devi affrontare poi dopo nel mondo del lavoro questo grazie alla mancanza totale di una struttura a livello istituzionale che possa orientare i ragazzi e che cosa ho voluto fare con questo libro ho voluto per il mio piccolissimo andare a dare un non un orientamento perché non è il mio lavoro fare l'orientatore al lavoro ma dare un degli spunti degli input per poi andare magari come dico anche nel libro a contattare degli orientatori del lavoro a contattare delle strutture in cui magari anche private ci si può possano appunto dare al ragazzo alla ragazza un orientamento ma potrebbe essere anche fare un percorso con un tutor scolastico con un coach ce ne sono tante di figure che possono aiutare i ragazzi e aiutano spesso anche gli adulti quindi prima di arrivare a quel punto se tu sei un genitore o hai nipoti comunque sei a contatto con i giovani ti consiglio di leggere questo libro e soprattutto di farlo leggere altre persone in target cioè a studenti studentesse perché è scritto per loro non è scritto per gli adulti magari lo compreranno gli adulti perché comunque ragazzi è difficile no che compri un libro tecnico no a meno che non siano particolarmente nerd è un libro dedicato ai genitori o chi ha a che fare con gli studenti con un linguaggio per studenti una volta che viene regalato fatto comprare gli studenti loro riescono a capirlo perché perché ho fatto un percorso che mi ha portato praticamente in più di dieci scuole 180 studenti circa nelle marche ad insegnare appunto ai ragazzi come trovare lavoro con i social nello specifico come trovare lavoro con linkedin primo esperimento italiano di questo tipo mandato come mandato è stato ad opera della l'università di macerata e il risultato è stato appunto anche la creazione di un gruppo linkedin dedicato agli studenti di un canale telegram dedicato agli studenti che permette di avere un contatto diretto con me e per farli incontrare quindi varie scuole vari studenti che si incontrano si aiutano perché il valore più grande io ho cercato di passargli è stato quello legato alla allo scambio di informazioni fra persone e alla rete bene allora questo è tutto per oggi trovate il link in descrizione altrimenti comunque potete cercare su amazon linkedin per studenti e troverete appunto la versione ebook o la versione cartacea per cominciare a leggere questo libro e soprattutto consegnarlo nelle mani di chi poi con questo libro potrà fare un cambiamento profondo nella propria vita bene questo è tutto io ti saluto e ricorda esagera sempre ciao da valentina link ed in formula il podcast per trovare clienti con l'inbound marketing di valentina vandilli